L'assessore regionale alla sicurezza per i cittadini Vittorio Bugli ha presentato tre provvedimenti presi dalla Giunta e che serviranno ad aumentare la sicurezza nelle città e nelle cittadine della Toscana. Si tratta di due bandi e di un finanziamento per dei corsi da tenere nelle tre università regionali. Il primo bando da 800.000 euro è rivolto ai comuni che vogliono presentare dei progetti per aumentare la sicurezza in quartieri considerati più fragili. Attraverso azioni di animazione, partecipazione dei cittadini, dei commercianti, riapertura di negozi chiusi utilizzo di un bene comune a fini di rivitalizzazione del quartiere tutte queste cose potranno essere inserite in questi progetti. In questo bando i comuni possono presentare anche dei progetti per servizi simili al vigile di quartiere progetti magari da proporre in sinergia con l'unione dei comuni a cui fanno capo. Il secondo bando da 500.000 euro serve per rifinanziare e incrementare la videosorveglianza. È una richiesta che viene da tutti i territori, bene abbiamo fatto in questi anni a finanziarla sostanzialmente in quasi tutti i comuni della Toscana, andiamo avanti in modo particolare lasciando spazio a quei comuni che per vari motivi sono rimasti fuori dai finanziamenti precedenti. Infine la regione ha stanziato 75.000 euro per creare insieme all'Università di Firenze, Pisa e Siena dei corsi destinati a quelle figure professionali che nei comuni si occupano di pianificazione e quindi di sicurezza.